Ora ci occupiamo di pallavolo, iniziamo con la serie A2, si conclude con una vittoria sofferta al quinto set, la gara interna della Sieco-Impavida-Ortona, state vedendo alcune immagini contro Brescia, partita giocata sabato, questi i parziali 25-22, 25-21, 16-25, 22-25, poi il quinto è decisivo set, chiuso in favore degli impavidi, 15-7 in due ore di gioco. Domenica 7 marzo la Sieco affronterà in trasferta Cantù con inizio alle 18.